Al mercato ortofrutticolo di Cautanissetta, il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale ha sequestrato oltre tre tonnellate di merce e imposto multe per 7.500 euro a causa di violazioni sulla tracciabilità. E sull'etichettatura dei prodotti, i sequestri hanno riguardato 1.200 kg di loti e 590 di limoni. La merce deperibile è stata donata alla parrocchia Santa Croce e ad altri enti di beneficenza per supportare le menze dei poveri.